In questa puntata di Mondo Artigiano usciamo dai confini provinciali, andiamo in Europa per conoscere meglio l'UEAPME e lo facciamo con il suo vicepresidente Luca Crosetto. Quali sono gli obiettivi di questa associazione che è un referente vero e proprio per tutti gli artigiani italiani? Sì, UEAPME è questa organizzazione europea che con Fartigianato ha contribuito a creare e all'interno di UEAPME sono rappresentate tutte quelle organizzazioni del mondo dell'artigianato e del mondo della piccola e media impresa di tutti quegli stati che fanno parte della Commissione Europea. È il referente principale per noi artigiani, per le piccole e medie imprese nei confronti del Parlamento, nei confronti della Commissione Europea, quindi la struttura che maggiormente si deve rapportare e cercare di portare a casa i risultati per le piccole e medie imprese. Ecco che voi quindi in Europa, in particolare anche nelle ultime assemblee, proprio nelle ultime settimane, cercate di interfacciarvi anche con le realtà artigiane e delle piccole e medie imprese degli altri paesi per riuscire ad avere una maggiore tutela delle PMI. In particolare nell'ultimo trattato che avete presentato ci sono due punti fondamentali, il Made in Italy e riportare la produzione in Europa. Sì, sicuramente sono state le ultime due settimane, due settimane intense per l'UEAPME e per il mondo della piccola e media impresa. Arriviamo in una fase particolare, ci sono appena state le votazioni in tutta Europa, quindi avremo un nuovo Parlamento e soprattutto, molto importante, avremo il semestre di presidenza italiano. In questa occasione l'assemblea dell'UEAPME della settimana scorsa ha preparato e ha presentato quelli che sono per noi i punti fondamentali che UEAPME andrà a presentare appunto al Presidente Renzi, che sarà colui che presiderà questo semestre e che per noi sono fondamentali per lo sviluppo e per poter far sopravvivere questi milioni di imprese a livello europeo. Come hai detto tu, sono due all'interno di questa presentazione i punti per noi importanti. Uno è il Made in, finalmente anche i nostri colleghi del Nord Europa si sono resi conto che il Made in non è un costo ma è un valore aggiunto e quindi per le imprese del Mediterraneo, soprattutto per l'Italia, sarà importante avere diciamo anche negli altri stati questo tipo di obbligatorietà. Finalmente il consumatore finale potrà rendersi conto dove i prodotti sono stati appunto prodotti e di che qualità e da che paese questi prodotti arrivano. L'altro che secondo noi era anche qui di basilare importanza è finalmente tentare di convincere la Commissione nei prossimi anni a reinvestire nel manifatturiero. Alcuni anni fa ci eravamo convinti che il manifatturiero in Europa forse era oramai destinato a scomparire, mentre invece ci si rende conto che anche imprese di livello superiore, imprese più grandi delle nostre, hanno iniziato a capire che produrre nei paesi del sud-est asiatico non aveva quella qualità e non aveva quelle grandi garanzie che invece possono avere delle produzioni più locali. Sicuramente non saranno più le produzioni di alcuni anni fa, abbiamo bisogno di maggiori investimenti, quindi maggiore programmazione e quindi un aiuto sicuramente da parte della Commissione nel spingere anche le piccole e medie imprese a fare investimenti in ricerca e sviluppo a nostro avviso è di basilare importanza per i prossimi mesi. Sicuramente c'è già stato un cambiamento di mentalità, cioè il fatto di aver capito che la delocalizzazione non è la soluzione è importante, però forse è ancora necessario fare un piccolo passo, cioè i piccoli artigiani devono capire che è importante fare delle scelte, non soltanto a livello territoriale ma proprio in collaborazione con l'Europa che poi in realtà con le sue scelte ha delle ricadute importanti sulla nostra quotidianità e sulla quotidianità delle imprese. Sì, oramai è diventato importante renderci conto che il mercato oramai è globale ed è globale anche per le piccole e medie imprese. Come confartigianato tanto è vero che negli ultimi mesi stiamo progettando e stiamo cercando di essere al fianco delle nostre imprese, soprattutto nel cercare di capire quelli che possono essere gli investimenti, le possibilità che il mondo intorno a noi può offrire alle piccole e medie imprese. Noi dobbiamo scontare rispetto alle grandi delle particolarità diverse, quindi noi abbiamo sicuramente capitali inferiori, possibilità di investimento diverse, ma con l'associazione accanto e con l'idea importante del made in, della qualità, del valore aggiunto, possiamo dire la nostra e sicuramente inserirsi in una fascia di mercato che comunque contraddistingue i prodotti italiani. Il marchio made in Italy è il marchio a livello mondiale più conosciuto e quello più gettonato. Noi dobbiamo saperlo vendere meglio, siamo italiani e da quel punto di vista lì secondo me abbiamo una marcia in più rispetto ai nostri competitor europeo e questo secondo me dovrà essere il punto di svolta dei prossimi anni. Grazie a tutti.